Matteo Berrettini ha superato in rimonta Alexander Blocks 3-6, 6-2, 7-5, portando l'Italia un passo più vicino alle finals di Coppa Davis 2024. Dopo un avvio difficile, il tenista romano ha saputo reagire, vincendo nettamente il secondo sete, imponendo la sua pressione nel terzo decisivo sete. Il break ottenuto nel dodicesimo game ha sigillato una vittoria cruciale per la squadra italiana. Al termine del match, Berrettini si è lasciato andare all'emozione, spiegando tra le lacrime ai microfoni di Rai Sport le ragioni del suo stato d'animo. Questa vittoria è speciale per mille motivi. Non ho iniziato bene, avevo troppi pensieri, ma ho lottato con tutto me stesso. Senza supporto dei tifosi non ce l'avrei fatta. Se non fosse stata una partita di Coppa Davis, il risultato sarebbe stato diverso. Giocare per l'Italia con i miei compagni, che sono come una famiglia, è un sogno che si avvera. Giocare per l'Italia